Sono con due delle protagoniste della vittoria del Brescia di questo pomeriggio, Elena Belussi e Federica Bocchi. Allora, cominciamo con Elena. Hai fatto una grandissima partita, questo te lo devo dire. Sei stata bravissima in difesa, tanti recuperi in velocità, tante scivolate. Hai rischiato tanto, però ti è andata bene. Insomma, quali sono le due sensazioni? No, sicuramente. Allora abbiamo sofferto un po' all'inizio per la difficoltà del campo, però credo che comunque da grande gruppo che siamo siamo riusciti a tirare fuori la grinta che abbiamo e credo sia assolutamente meritata la vittoria. Federica, tanta difficoltà nel giocare il pallone perché il campo era in condizioni davvero difficili, si riuscì a fraseggiare poco, serviva una partita da battaglia, tu lì in mezzo ti sei dato tanto da fare. Ho cercato di tirar fuori la grinta che c'era in me e ho cercato anche comunque di fraseggiare con le ragazze, le mie compagne, però quello appunto, come hai detto te, serviva la grinta, ho cercato di tirarla fuori al massimo. Elena, come ha giocato? Io credo migliore in campo, veramente. Ha gestito la difesa tutta da sola. C'era un'attaccante veramente forte e ha dovuto contrastarlo molte volte, ma è stata in dubbio la migliore. Ecco, è stata in dubbio la migliore. Elena, come ha giocato Federica? No, vabbè, credo sia comunque fondamentale in ogni partita perché riesce sempre comunque, a parte la grinta che fa parte comunque della sua personalità, riesce sempre a trovare la giocata giusta e a contribuire a fare gol poi. Allora adesso avete un compito perché questa era l'ultima partita del 2018, la prossima settimana, insomma, è Natale, quindi voi due avete il compito di guardare la telecamera e fare gli auguri ai nostri tifosi che anche questo pomeriggio, nonostante un freddo bestiale, la nebbia che c'è stata qui a Bareggio, ci hanno seguito, ci hanno incitato e vi hanno dato la carica per questa bella vittoria. Allora, comincia tu Elena, fai gli auguri e ci rivediamo nel 2019. Vabbè, ringrazio tutti i tifosi che sempre ci seguono in tutte le partite e auguro appunto a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo. Perfetto, adesso tocca a te Federica. Anch'io auguro un buon Natale a loro e le loro famiglie, ci supportano sempre, li ringrazio molto, auguro buon Natale e un buon anno. Grazie davvero. Perfetto, allora grazie a voi, naturalmente auguri anche a voi, auguri a tutti e ci rivediamo nel 2019. Grazie, grazie.